FIDERALISMO FISCALE, AUTONOMIE SPECIALI E ORDINAMENTO FINANZIARIO PROVINCIALE Questo è il tema della conferenza di informazione tenutasi nei giorni scorsi nell'aula magna della Fondazione Bruno Kessler a Trento con i protagonisti del complesso sistema che regola i rapporti finanziari fra Stato e provincia Obiettivo dell'iniziativa promossa dal Consiglio Provinciale su richiesta dei capi gruppo della minoranza quello di conoscere meglio e discutere su un argomento che per il nostro sistema autonomistico riveste particolare attualità e rilevanza soprattutto dopo l'accordo di Milano del 30 novembre 2009 che ha profondamente modificato i meccanismi di trasferimento delle risorse dallo Stato alla provincia Siamo qui oggi per conoscere perché evidentemente le valutazioni si devono fare su ciò che si conosce L'approvazione della legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale era chiaro che ci poneva in una condizione di massima attenzione in quanto rappresentanti dell'organo legislativo di questa provincia e considerato che poi noi anche diciamo come rappresentanti dell'opposizione apparteniamo a quei partiti che invece al governo evidentemente rivestono ruolo di maggioranza e di governo abbiamo proprio anche questa duplice funzione di mantenere un'attenzione e collaborare affinché questa attuazione del federalismo non si traduca in nessuna azione negativa per la nostra autonomia Naturalmente è legittimo avere paura di ciò che non si conosce e pertanto il primo passaggio era quella dell'informazione una richiesta di conferenza di informazione così come previsto dall'articolo 150 del nostro regolamento del Consiglio Provinciale alla quale hanno aderito tutti i colleghi consiglieri dell'opposizione Le conseguenze del federalismo fiscale sullo statuto di autonomia, entrate e competenze della provincia sono stati i temi sviluppati negli interventi dei relatori Luca Antonini, presidente della Commissione Tecnica Paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e Franca Penasa, garante delle minoranze in Consiglio Provinciale ci hanno spiegato come e in che misura l'Accordo di Milano e il federalismo fiscale incidono sul sistema della nostra provincia L'Accordo di Milano e la Valencia di Trento da un lato partecipa come è giusto anche alla solidarietà nei confronti delle altre regioni dall'altro però ottiene delle importantissime competenze penso a quelle in materia di università eccetera che gli permetteranno di creare un modello pilota che diventerà uno stimolo anche per tutte le altre regioni italiane perché evidentemente sganciando dal calderone generale con tutti i difetti che ha il sistema universitario rendendolo autonomo diventerà estremamente competitivo lo stesso appunto su altri settori cioè il modello del federalismo che si attua nella provincia autonoma di Trento è un paradigma oggi per molte regioni italiane del nord Ma io credo che proprio questa legge, la 42, questa legge delega nel momento in cui nell'articolo 27 ha voluto espressamente riconoscere la nostra specialità e quindi ha voluto includere le speciali in questo processo ma diciamo le ha incluse con la massima garanzia ecco io credo che non si possa dire che ci sono evidentemente delle paure è chiaro che se una norma di rigore e di trasparenza si chiede a tutta la nostra nazione io non vedo perché la provincia autonoma di Trento che normalmente si deve qualificare per serietà e per attenzione si debba sottrarre una situazione di questo tipo Grazie a tutti